e inizia il primo game tra top 20 d'italia ex top 20 d'italia ora si, si è convertito, non è poi così si, ecco dopo che bene, inizia il primo game, su Hollow Buster facciamo vedere la behind, e questo è il Pikachu di Muro è bellissimo e vabbè che stronzata Luca che hai detto, Dio mio uuuu, sbuonare coi sono una marionette boh, che direi questo, a parte che non vediamo è stato un buon inizio siamo in 11, cosa ti aspettavano? bene bene questo è il match che si aspettava stasera è il match dell'anno ragazzi e vabbè moto e no scusa è figa attenzione f f tra un credo non l'ho visto però prende la stock non riesce a fare la loop, il loop troppo è il Mamo è perché il Ratto sia abbastanza in counterplay alle combo infinite di un paio merda non si fanno favoritismi, stavamo parlando comunque con Muretti hai ragione questo è il topo di merda di Muretti il Raton il Raton di Muretti attenzione ohhh il Joel il Thunder tanto torna si prende si prende un match smash nel Muretti ma non riesce neanche a pancaiccarlo mentre dietro l'Orex 98 vai cazzissimo Muretti 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 Luca ieri io ieri comunque vediamo che si sta adattando al gameplay da Rakhi letteralmente di 3 but within tacca poi si prende la stock uuuuuh uuuuuh dare delle patatine a differenza di Pichu uuuuuh uuuuuh che schifezza che ho vista che era quella dash attack che clanca con le fsmash di baio non so cosa faccia più schifo il dash attack o il fsmash in questo caso Luca gode godopoli non continuato ma Soundtrue non prende la stock perchè comunque Pikachu è grassa piccione grassa buona non riesce a pulire il jolt e si prende la stock e siamo lì vediamo se il top 20 italiano sotto riuscirà a prendere il game ok but we team si luce fa una bella cestella qui siamo air dodge verso il basso oh gioco pericoloso downthrow di ai basse in terra attenzione ma il top riesce comunque a svincolarsi ma oh fair fsmash up smash per prendere un anti recovery bel quick attack bella conversion dal quick attack backthrow backthrow fair sta sotto il backthrow fair drag down che non riesce a convertire e fa smash di oh ha tripato fair dacia attack roll dare non punisce dare upthrow thunder dare oh no oh backer che non viene punito dash attack instant dash attack dal roll ma doc primo set ma primo game cazzo è uguale primo game preso dal nostro death luca la scaronia senza fatica luca la sta scaroniando forte dice 3-0 questo game era data era data era data ah si era dati come marello ma luca chi l'ha fatto ma luca si ritorna stessi match stessi personaggi drommi drommi filippo sale e poi scelta e poi scelta ciao kalos ok inizia la prima ladder non continua credo sdi da parte di verde guardiamo se invece rispetto al side b che pulisce lag shield il riuscita non rispetto a questo secondo side b un buono il jolt per potessi l'apera wall jump che viene presa dal luce poteva fare di meglio lì caccia la tex il place peccato per il all'altra parte il luce ok up throw ok mi pulisce l'hard landing di dare ok side b non prende il legge uuh prova un altro smash dash attack che si pulisce lo smash entrambi dash attack che non viene punito becker che lo riporta sempre fede la stage è giustamente dominato da amuretti get up attacchi dipende la central stage un altro becker che lo rimanda fuori becker fa fsmash becker che lo rimanda fuori 115 per cento per la parte lì dash attack va a vuoto becker che un'altra becker adlenda pensa di per tenare fsmash che non prende bado a vuoto un air che viene punito dalla B un'altra becker un'altra becker per rimandare fuori dallo stage prendere altra fsmash duale oh non punisce il becker su shield anzi non viene fsmash eh si è guarda l'after esplodere baionetta con l'after si ok Sì, sono Slim Shady Guardiamo se riuscirà a prendere Deceva dodgiarci attraverso Si tenta un F smash abbastanza greedy Guardiamo F throw che killa C'è l'audio per la descrizione per i ciechi Grazie Luca Quanto è fatto bene l'audio Poi faccio uno screen Attenzione Sì, è passato sotto il jolt Ha schivato il jolt Attenzione, Muretzi si fa scombare SDI, just SDI bro Bell'quick attack, rischiava l'SDI Rispetto al side B, bell'quick backer Uh, stavo per arrivare l'F smash Dash grab che non viene punita side B Air dodge verso il basso E' la smack che viene attackata F up smash Uh, il fair Oh, non riesce a punire il hard landing Air dodge laterale Guardiamo Down throw Down throw giù Thunder La combo delle patatine ragazzi Non è che Cristian Fini riesce a dire una cosa del genere Un'edizione che è tech porca Oh, andiamo Side B Uh, tanti Ok, witch time ha rispettato comunque il possibile counter Jolt Non viene preso Perché comunque ha un range F throw che non chilla Uh, però lo riesce a prendere con le 3D Stock 0-0 Questo matchup è davvero Non so neanche com'è questo matchup Credo che sia un matchup abbastanza a me per bio Perché è un rato, sono un'azer Oh, vade drag down Oh, uh Uh, rimane l'hitbox jab 75% molto pericolosa Ora il witch time non dura niente ragazzi Ormai è troppo... Schergato Se l'è preso Oh, nooo Oh, nooo Che c'è successo? 40% 40% 40% 40% Somma, non vanno clippati 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 Cripti ragazzi Oddio Si c'era Senti, l'avete sentito ragazzi? Oh, le cazzi Le cazzi Le cazzi Cazzi in time ragazzi Era di premere scala Cristian, non passi il tuo controllo? Lo schergato è là Adesso? Se va letta Parliamonela con Cristian No? Ok Puoi guidarmi la... Ah, no, che penso Puoi guidare il potere Eh? Ma... Tutto ora Perché sono 1-1 Ehm... 3-0 Eh... Ridley Hinking Tranne l'ultima che ha preso Fanno tutte e due schifo No, no, no Il fatto che almeno Farco gioca a Smash Puoi niente a giocare un altro gioco Bene, ritorniamo Su Smashville Guardiamo AirDodge che viene pulito col side B Nair Beh, Fair, Fair Che viene pulito 63% Guardiamo se prende... Uh, Dash Attack che riprende Moretti sta facendo la Cristian E... Quasi muore Lui è in Will Oh Fair 131% Non so se riesce a continuare Uh Non tecca Non tecca Ragazzi Come si sa La malattia di Milano che non tecca È arrivata anche a Torino Torino non tecca E se non tecca Il top 20 d'Italia Oh, guardiamo up throw Backer Buonissimo Buoni DJ Guardiamo se riesce a punire Ah, è molto brutto Viene pulito subito dal side B Laser Questo... Non lo vedo molto positivo Mi sa che gli appunti Sono da bruciare Luca È riuscito a uscire? Dalla confirm? Uh Muretti Muretti è una delle persone più greedy del secolo ragazzi Infatti muore Va Anche lui che picca Smash Oh Oh Muretti... Eh si Muretti Luca vogliamo In diretta Il... Aspetta 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 Guardiamo se... Guardiamo se... Mi è salito like da commentari ragazzi Eccomi Mi sa che ho tirato una mega guppata Si è in diretta Porca Eva Ecco qua Adesso vogliamo la reazione in diretta Dei tu che bruci i documenti Ok ok Deir non fa la spike Però intanto Arriva Vediamo un po' cosa fa Side B Becker non entra Non entra Lo... Cazzo lo prende in contropiede di brutto Oh mio dio Un po' va succede Up smash Bella call però Up smash Becker Sauber spot Non... Non entra Non teca Oh Becker diretto Torino Non teca 2-1 2-1 Torino Teca Torino Teca Teca Dobbiamo ringraziare a Luca per aver Aver Ha tirato Ha tirato Ha tirato Ha giocato la schedina Ha tirato la maledizione peggiore conosciuta dal mondo Luca quanto hai giocato sta schedina? Dai Icio No Non so già Counterpick a boxing ring Canto e picca o Andreu? Oh no Stop Bane Vabbè si è vero però Non cambiamo Non cambiamo Non cambiamo Biobigachums 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 Quanto è? Un milione di centesimi Cazzo Vabbè GO DAMN Allora Le tiriamo in schiena Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua Biobigachums 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 È un'opzione che Non pensavo entrasse su Pikachu Il nano sulla becca Un altro down B Oh flex Flex è wish time Per schivare i jolt Che non so se sia ottimale O se sia un flex onestamente Però Nel dubbio Nel dubbio Lo stile è prima di tutto con Bio Spara Lo prende Muore Muore Non pensavo Non pensavo Però muore anche Bio Reset Reset Due stocca a testa Due stocca a testa Wish time Inita la commettina Set up No Il nero era Il nero era probabilmente O un full up nero O una per Vediamo Non credo Però Se il nero ne entra Neanche quelle Big punish Big punish Da un B Che non ho molto capito Perché Coprire una Una recovery alta Ma era Cazzo sottoterra A momenti Vabbè Modetti ha Il flowchart Non credo Lui è l'analitico Ricordatelo sempre Lui ha analizzato Ventimila Universi paralleli Dove saltava su Però ha scelto L'opzione meno probabile Allora Vediamo un po' Entra E poi backer subito 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 Desha attack Bellissimo Desha attack Prende Il quick attack Non poteva letteralmente Fare niente Lo scaraventa A 98% Ha provato a tornare indietro Però non ce l'ha fatta HB Mamma mia Bayo No È successo No Start E mo E mo No La piccone No Quasi ha fatto La piccone Merda No Peccato Vabbè La tensione fa anche questo Pro controller Era ed ostacolo Non era il pro controller La tensione fa anche questo Vediamo se Questa cosa Giocherà Un Effettivamente Un ruolo Nella fine di questo game O del set Oppure se invece Rimarrà invariato Ah insò Continua le combo Dropa la combo True combo di piccone Che non si sa come ha fatto Bro È una piccone Mamma mia Combo clean Apera per bear Desha attack Non colpisce Becker non entra in tempo Tenta la flintrap Bellissimo Becker Apera Oh Oh mio dio Oh mio dio Che cazzo di conversion è Cazzo merda Cazzo merda Molto rischioso Oh Oh Niente Oh La 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 Letteralmente La Unloadato Downloadato Letteralmente Setappato la kill del secolo Luca C'è un gufo C'è un gufo C'è un gufo C'è un gufo C'è un gufo